Buonasera e benvenuti al terzo appuntamento con il bel canto di una volta. Edi amava profondamente quest'aria che è portata al successo dal suo grande amico Mario del Monaco. Una fervente preghiera che recita nel testo Sono io che ti libero dal baratro. Dalla juive di Jacques Halévy al pianoforte maestro Riccardo Maria Ricci. Tenore Alessandro Moccia, Rochelle Cadussanier. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie.